Direi quindi che possiamo iniziare la nostra lettura, quindi stasera leggiamo Silmarillion, capitolo 10, Isindar. Il capitolo, se non sbaglio, sono sei paginette, quindi si può fare una botta, possiamo suddividerlo in due sessioni da tre pagine ciascuna. Come sempre, Rick, ti do io un cenno quando ci possiamo fermare, quindi vi auguro buon ascolto e buona lettura. Prego, Rick. Comunque, Frank, ci tenevo a dire che vedendoti giocare all'ombra di Mordor in questi giorni mi hai fatto venire una voglia, Matt, di scaricare l'ombra della guerra. Infatti l'ho fatto, è un download in questo momento. Ho giocato alla demo come un pazzo tra ieri e oggi e adesso le trovo a basta. L'ho evitato per un sacco di giorni, ma non me lo scarico. Non te lo sei giocato, non perché devi guardare che l'ombra di Mordor viene prima dell'ombra della guerra. L'ombra di Mordor l'ho giocato nel 2015, sì, quello l'ho evitato perché vedevo che era bellissimo nei gameplay, ho detto no, ci va a finire che ci butto la vita e mo l'ho fatto. Allora, io tra l'altro ho fatto degli acquisti scostumati in questi giorni perché ho acquistato anche Elden Ring alla modica cifra di 60 euro, che è una mazza se lo sa. Quindi ragazzi, ve lo dico già, vi porterò anche Elden Ring, non qui su Twitch, ma direttamente su YouTube. Me lo volevo scaricare perché comunque è un gioco che è fantasy, dark fantasy, che è il genere che a me piace e niente, vi porterò anche qui. Questo è stato periodo di acquisti folli, insomma. Va bene, allora auguro nuovamente buon ascolto e buona lettura al nostro Riccardo. Prego. Capitolo 10 I Sindar Ora, come è stato narrato, la possanza di Elue e Melian si accrebbe nella terra di mezzo, e tutti gli elfi del Beleriand, dai marinai di Chirdan, ai cacciatori nomadi dei Monti Azzurri, di là dal fiume Gelion, avevano Elue per signore. Elu Thingol, così era detto, cioè nella lingua del suo popolo, Re Manto Grigio. Ed essi sono detti Sindar, elfi grigi del Beleriand illuminato dalle stelle. E benché fossero mori quindi, sotto il governo di Thingol e grazie all'ammaestramento di Melian, divennero i più belli e i più saggi e i più abili di tutti gli elfi della terra di mezzo. E al termine della prima età della cattività di Melkor, quando tutta la terra godeva di pace e la gloria del Valinor era al culmine, venne al mondo Luthien, figlia unica di Thingol e Melian. Sebbene la terra di mezzo giacesse in massima parte immersa nel sonno di Yavanna, nel Beleriand, sotto la ferula di Melian, erano vita e gioia, e le stelle lucenti scintillavano come fuochi d'argento. E lì, nella foresta di Neldoreth, Luthien fu data alla luce, e i bianchi fiori di Nifredil sorsero dalla terra per salutarla a guisa di stelle. Or dunque avvenne, durante la seconda era della cattività di Melkor, che nani penetrassero di là dai monti azzurri degli Ered Luin, in Beleriand. Khazad, così denominavano se stessi, ma i Sindar li chiamavano Naugrim, cioè popolo rachitico, nonché Gonhirrim, padroni della pietra. Lontane in oriente erano le più antiche dimore dei Naugrim, i quali però si erano scavati, nel modo che è loro proprio, grandi aule e magioni, nel versante orientale degli Ered Luin. E codeste città erano chiamate nella loro lingua Gabil Gathol e Tumun Zahar. A nord del grande rilievo del monte Dolmed si trovava Gabil Gathol, che gli elfi nella loro lingua dicevano Belegost, vale a dire Gran Rocca. E a sud erano gli scavi di Tumun Zahar, detta dagli elfi Nogrod, ovvero di Mora Cava. Massima tra tutte le residenze dei Nani era Khazad-dum, la buca dei Nani, nanosterro. Questo libro lo traduce la buca dei Nani, ma sarebbe quello che tutti conosciamo come nanosterro. Massima tra tutte le residenze dei Nani era Khazad-dum, il nanosterro, Hazodrond, in lingua elfica, che nei giorni della sua decadenza fu poi detta Moria. Ma essa si trovava ben lungi, tra i Monti Brumosi, di là dalle molte leghe dell'Eriador, e per gli Eldar essa non era che un nome e un suono, tra le molte parole pronunciate dai Nani dei Monti Azzurri. Da Nogrod e Belegost giunsero i Naugrim che penetrarono nel Beleriand, e gli elfi furono sbalorditi, perché si erano ritenuti le uniche creature viventi della terra di mezzo che pronunciassero parole e costruissero con le mani, e che tutte le altre non fossero che pennuti o animali terrestri. Ma non riuscivano a capire nulla della lingua dei Naugrim, che alle loro orecchie suonava aspra e sgradevole, e ben pochi degli Eldar sono mai riusciti a padroneggiarla. Ma i Nani erano rapidi ad apprendere, e in effetti più desiderosi di imparare l'elfico che di insegnare il proprio linguaggio a razze aliene. Pochi degli Eldar misero mai piede a Nogrod e Belegost, salvo Eol di Nan Elmoth, e Maeglin suo figlio. I Nani, invece, andavano avanti e indietro per il Beleriand, e costruirono una grande strada che, passando sotto i versanti del monte Dolmed, seguiva il corso del fiume Askar, e superava il Gelion a Sarnathrad, cioè a dire Guado delle Pietre, dove in seguito vi fu battaglia. Sempre scarsa fu l'amicizia tra i Naugrim e gli Eldar, benché molto profitto traissero gli uni dagli altri, ma all'epoca cui i motivi del rancore che sarebbe sorto tra loro non si erano ancora manifestati, e il re Thingol diede loro il benvenuto. I Naugrim, tuttavia, in tempi successivi, concessero più prontamente la loro amicizia a Inoldor che a tutti gli altri Elfi e uomini, a cagione dell'amore e del rispetto che nutrivano per Aule. E sopra ogni altra ricchezza, pregiavano le gemme dei Noldor. Già nella tenebra di Arda, i Nani producevano grandi opere che fin dai primi giorni dei loro padri erano dotate di meravigliosa abilità nel lavorare metalli e pietra. Ma in quegli antichi tempi amavano lavorare ferro e rame, più che non argento o d'oro. Ora, Melian era molto previdente, siccome tutti i Maiar, e trascorsa che fu la seconda età della cattività di Melkor, disse a Thingol che la pace di Arda non sarebbe durata in eterno. Egli quindi si consigliò con se stesso circa il modo con cui costruirsi una regale di mora, e un luogo che fosse forte, se mai il male avesse a risvegliarsi nella terra di mezzo, e chiese aiuto e parere ai Nani di Belegost, i quali furono ben lieti di darglieli, poiché in quei tempi erano instancabili e desiderosi di nuove opere. E benché sempre chiedessero un prezzo per quanto facevano, fosse con piacere o fatica, quella volta si ritennero ripagati a sufficienza. Che Melian insegnò molto di ciò che erano bramosi di apprendere, e Thingol li ricompensò con molte belle perle. A dargliele era stato Kirdan, perché in gran numero le si trovava nelle acque basse attorno all'isola di Balar, e Naugrin però mai ne avevano viste di simili, e le tenevano care. Va bene, abbiamo quindi letto, anzi il nostro Riccardo ci ha letto, la prima parte di questo decimo capitolo, e che cosa è successo? Noi siamo arrivati nella terra di mezzo, nello scorso episodio, col capitolo 9, insieme ai nostri Noldor. Avevamo lasciato Fingol e Isindar durante il primo viaggio dei Noldor, il primo viaggio degli Elfi in realtà, dove, come vi ricordate, c'era stato l'incontro tra Fingol e Melian, in un bosco, non mi ricordo il nome del bosco in cui si sono incontrati... Dan Elmoth. Dan Elmoth, grazie. In cui si sono incontrati Melian e Fingol, e dopodiché i Elfi continuavano il loro viaggio, però molti di quegli Elfi rimassero nel Balerian a cercare il loro re, cioè Elvo e Fingolo. Ebbene, da questa unione tra Melian e Fingol, nacque il Dorias, nacque il regno del Dorias, il regno degli Elfi grigi, dei Isindar. Ebbene, in questo capitolo torniamo nuovamente ai Isindar. Siamo tornati quindi nel Balerian con i Noldor, con il nostro Fenor, e Tolkien che cosa fa? Adesso ci reintroduce Isindar e ci dice che cosa nel frattempo hanno fatto questi Isindar. Come abbiamo letto, come abbiamo ascoltato e come Riccardo ci ha letto, Isindar hanno iniziato a fare amicizia, se così possiamo dire, o comunque a relazionarsi con i Nani. Sappiamo che i due principali regni del Balerian dei Nani erano Nogrod e Belegost, che erano posizionati nelle montagne poste a est del Balerian, quindi le montagne che vanno un po' a creare il confine tra il Balerian e la Terra di Mezzo. Dopo vi faccio vedere come sempre le mappe. quelli erano i due regni nanici principali del Balerian, ma già qui viene citato il regno di Khazad-dûm. E già all'epoca, già all'epoca, quindi ci troviamo all'inizio della prima era, ragazzi, era il principale regno dei Nani. Lo dice molto chiaramente il testo. E ci troviamo all'inizio della prima era. Ed era già il principale regno nanico, Khazad-dûm. Però in questo contesto, in questo capitolo, il regno di Khazad-dûm non ci viene presentato per bene, ma ci viene descritto a principal modo, almeno in questa prima parte di questo capitolo, il rapporto che si viene a creare tra Fingol, quindi il regno di Fingol, e i Nani. Un rapporto di... potrebbe sembrare di reciproca collaborazione, ma a me, personalmente, sembra più di... come dire, un supporto quasi unilaterale da parte dei Nani nei confronti degli Elfi. Gli costruiscono persino casa al nostro Fingol i Nani. E bene o male, i Nani e gli Elfi non è che li cambiano con grandi cose. Sì, c'è la perla, anche se non ho ben capito, ma la perla non è che gliela dà. Non dice che gliela dà, gliela dà proprio, così dice. Sì, la dà al campo dei Nani di Belegost, o di Nogrot, ora non ricordo. Ma è un regalo proprio, quindi è un regalo che gli fa. Sì, da quello che ho capito dal testo... Aspetta, Ninfellos era detto che il capo dei Nani di Belegost la pregiava più di una montagna di ricchezze. Ok, sì, quindi li ricambiò, ricambiò tutte le cose che i Nani fecero per gli Elfi, gli Elfi di Fingol, con perle, tra cui questa perla in modo particolare. Per ora non c'entra ancora nulla la Nauglamir, quella verrà più in là, e la Nauglamir che sarà in realtà il seme della discordia. E noi, qui ragazzi, è importante questa fase, perché noi ci troviamo ancora in quella fase della storia tra Nani e Elfi, dove i Nani e Elfi erano amici, o comunque avevano amici, forse è un parolone, ma avevano dei rapporti commerciali, dei rapporti, degli scambi, anche di conoscenze, per quanto comunque anche in questo contesto i Nani, lo dice molto chiaramente, erano i migliori nella metallurgia. Dice nella temperatura del metallo, ma bene o male possiamo definirli nella metallurgia, tanto è vero che poi viene accettato anche al fatto che erano i migliori anche nella produzione delle cotte di maglia. Sì, loro sono gli inventori delle cotte di maglia. I Nani e Elfi è cosa che noi poi rivedremo, riprenderemo, tra l'altro, nel Signore degli Anelli con la cotta che viene regalata ovviamente a Bilbo e Bilbo regala a Freud. Quindi, vedete la bellissima, la profondità dell'universo torqueniano, bellissimo. Tutto, alla fine, tutto si ricollega, tutto è armonioso, tutto è coerente. altra cosa interessante che volevo accennare, dove sta? Ecco, qui fanno la loro prima comparsa, diciamo, la loro prima comparsa, si inizia a parlare degli orchi presenti nel Beleriand e c'è un passaggio, adesso, fatemi vedere se lo riesco a beccare, che, vabbè, insomma, ecco qui, eccolo qui, e qua si parla degli orchi perché sbucarono nel Beleriand, donde vissero o che cosa fossero gli elfi ancora non lo sapevano, qui parla degli orchi, ritenendoli forse avari, incattiviti e inselvatichiti nelle selve e in questo l'azzeccavano fin troppo bene a quanto si dice. Che cosa fa torquen qui? Torquen qui aveva già elaborato l'origine degli orchi in merito al quale gli orchi sarebbero dei degli elfi corrotti dal nostro Morgoth che li aveva corrotti, l'abbiamo letto qualche capitolo fa all'epoca quando ancora stava ad Otumno, quindi questi sono gli orchi che furono corrotti da Morgoth e questa cosa viene accennata anche in questo capitolo, però torquen come sempre fa per rendere la cosa ancora più realistica, non è che ci lo dice molto chiaramente che ci dice guardate che le cose stanno esattamente così, ma ci dice e in questo l'azzeccavano fin troppo bene a quanto si dice e qui uno potrebbe chiedersi ma chi è che lo dice a quanto si dice chi le voci che girano cioè lui torquen sempre tornando sempre agli stessi discorsi che abbiamo fatto tante volte lui ci racconta tutte queste storie come se lui avesse ascoltato a sua volta la storia di questo mondo e quindi lui ci dice le voci ci dicevano che le cose stavano così ma io non posso ma io non posso avere la certezza assoluta perché io vi sto raccontando semplicemente quello che io ho ascoltato cioè c'è questa sorta di passaggio del testimone che tu avverti tra qualcuno che ha raccontato questa storia di questo universo a Tolkien e Tolkien che ce la sta raccontando ovviamente noi sappiamo che tutto ciò l'ha creato Tolkien però ti dà quella sensazione ti trasmette quel fascino che lo ritroviamo in tutti i testi torkeniani ed è una cosa fantastica l'abbiamo già visto in altri capitoli del Silmarillion e lo vedremo poi anche in futuro e questa questa notazione è un'ulteriore conferma che la passatemi il termine l'origine probabilmente più canonica degli orchi è quella che Tolkien accenna quando Tolkien ci racconta della loro corruzione a partire dagli elfi quindi a maggior ragione questa è un'ulteriore testimonianza è una doppia conferma che per Tolkien questi orchi hanno origine traggono origine dagli elfi appunto dagli avari cioè da quegli elfi che non erano partiti per il lungo viaggio dagli elfi ed erano rimasti nella terra di mezzo e che a quanto pare ora questi orchi che noi ci ritroviamo nel Beleriand possono avere due origini diverse o sono degli orchi che sono elfi che erano già nati nel Beleriand e che sono stati corrotti anche nel Beleriand a quel punto non dovremmo manco più chiamarli avari ma dovrebbero essere praticamente dei Sindar a questo punto che sono stati corrotti oppure potrebbero essere degli avari che si sono semplicemente spostati dalla terra di mezzo quindi dall'estremo est della terra di mezzo dove risiedevano lungo le sponte o nei dintorni del lago qui viene eccetera eccetera e si sono spostati nel Beleriand quindi questi potrebbero essere gli orchi presenti nel Beleriand in questo periodo e che come sappiamo come ci dice Tolkien tanta devastazione porteranno in futuro e nulla e il resto ci descrive a grandi linee le dinamiche che si vengono a creare tra elfi e nani come abbiamo visto i nani costruiscono casa a Fingol Menegroth la costruiscono loro fantastica questa cosa ragazzi non a caso Tolkien ci dice che Menegroth la casa di Fingol la costruiscono proprio i nani e loro vengono tra l'altro un altro passaggio che mi ha colpito è quando dice Tolkien ci dice che i nani erano molto più avvezzi ad imparare rispetto agli elfi o comunque ad imparare piuttosto che a insegnare il proprio linguaggio o comunque qualcosa della propria cultura questa è un'altra caratterizzazione che noi troveremo anche in futuro noi sappiamo che la lingua dei nani la lingua nanesca è tra le lingue più misteriose non so ovviamente perché purtroppo Tolkien non ci dice granché su quella lingua ma Tolkien ci dà una giustificazione del fatto che sia così misteriosa cioè che i nani erano molto resti a insegnare quella lingua e questa cosa la ritroviamo anche in questo capitolo qui quindi sono tante informazioni che Tolkien ci dà che però ci permette di porre le basi per quelli che per i rapporti che saranno presenti tra le due razze e ovviamente queste informazioni che ci dà Tolkien sono tra le poche informazioni che noi abbiamo sui nani specifici di Belegos e di Nogrod noi non abbiamo grandi informazioni su quei due regni molte delle informazioni che Tolkien ci dà sono presenti in questo capitolo quindi è un capitolo molto importante soprattutto per gli appassionati di Nani io non sono fra quelli però so che molti di voi siete molto appassionati di questa lanza detto questo lascio la parola a Paolo prego Paolo ah ringrazio Sosecchio89 volevo ringrazio scusami Paolo velocemente ringrazio Sosecchio89 Chigno MMRC e Bianca Lancia grazie grazie ragazzi e benvenuti a Valinor grazie prego Paolo io trovo affascinante questa questa origine degli orchi si dice che è una cosa che abbiamo visto come diceva Frank in altri capitoli ricordiamo tutti la storia di Ungoliant che si dice che si sia divorata da solo andando da sola andando nelle terre del sud poi altrove Tolkien dice che si dice anche che sia stata eliminata da Erendil allora ci sono varie versioni con questi si dice l'importante è capire che lo stesso Tolkien utilizza questo escamotage per dare profondità poi a tutta la narrazione perché ricordiamo che il Silmarillion è un corpus di leggende elfocentrico e quindi sono le cose che gli elfi hanno sentito e questi orchi probabilmente sono elfi corrotti altrove Tolkien dice che potrebbero anche essere degli uomini corrotti è interessante notare che in questa versione pubblicata del Silmarillion però venga accettata questa soluzione perché poi altrove troviamo altre idee di come sono nati gli orchi all'inizio Tolkien pensava che fossero stati generati dal fango poi addirittura aveva ipotizzato che ci fossero dei Maier che avevano preso la forma di orchi quindi le teorie sulla nascita degli orchi sono le più molteplici alla fine è bello perché nessuno sa bene da dove derivino si dice che e questa cosa torna sempre all'interno di tutta la narrazione tolkieniana ci sono delle cose per cui non avremo mai una sola verità è bello sapere che anche gli elfi avevano varie teorie a seconda della provenienza di queste storie e poi io volevo fare un ragionamento su questi elfi i sindar che sono affascinanti a me piacciono tantissimo gli elfi d'argento che non sono elfi oscuri ma non sono neanche elfi luminosi tanto che noi sappiamo che non sono calaquendi non sono tra gli elfi che sono andati a Valinor sono mori quindi sono rimasti nella terra di mezzo ma sono governati da due personaggi che sono stati a Valinor e questa è la cosa affascinante perché Tingle che aveva un altro nome e poi progressivamente l'ha cambiato perché non è più stato a Valinor ma è tornato nell'oscurità della terra di mezzo ha visto la luce degli alberi ma poi è tornato e si è innamorato di Melian e ha sostituito alla luce degli alberi l'amore di Melian e quindi di fatto c'è stata la schermatura della luce degli alberi e poi c'è Melian che invece è vissuta a Valinor e qui vediamo che Menegroth viene costruita con le visioni di Melian quindi di fatto viene costruita una piccola Valinor perché si dice che le visioni di Melian sono rivolte a Valinor con quello che lei vede di Valinor allora questa è una bellissima risposta per la domanda classica che si fa ma allora se gli elfi sono così attratti da Valinor cosa dovremmo dire dei Sindar che in realtà a Valinor non ci sono mai stati questa è una domanda legittima ma in realtà il testo che abbiamo appena letto dimostra che in realtà i Sindar sono figli di Valinor anche loro anche se non ci sono mai stati perché discendono da Melian che è una Maiar che viene da Valinor e da Tingol che è stato a Valinor ma dopo ha sostituito Valinor con Melian che viene da Valinor e quindi anche loro hanno la tendenza a costruire una piccola Valinor ovunque vanno che è esattamente la tendenza che hanno gli elfi ovunque nella Terra di Mezzo nel Beleriand cioè anche gli elfi che vedremo tornare da Valinor in Oldor e che poi andranno avanti nel corso del tempo cercheranno sempre di creare questa piccola Valinor e poi di cristallizzare il tempo e di fare delle enclave completamente diverse dal resto della Terra di Mezzo anche nella Terza Era anche quei discendenti guarda caso dei Sindar perché anche i Sindar sono perfettamente inseriti all'interno di questo discorso e io lo trovo assolutamente affascinante e poi a proposito di questa amicizia con i nani intanto si dice che gli elfi Sindar sono i più saggi e i più aggraziati e i più ingegnosi di tutti gli elfi presenti è bellissima questa cosa perché dipendono da Melian e io sono una venerazione per Melian perché proprio ha trasferito parte di tutta la sua conoscenza a un intero popolo e gli aresi veramente affascinanti perché questi elfi d'argento sono un unicum all'interno della Terra di Mezzo perché sono veramente una mescolanza di quelli che sono rimasti nelle tenebre della Terra di Mezzo e quelli che sono stati a Valino e poi ci sono i nani e qua si dice chiaramente che c'è una certa inimicità di base intanto è bellissimo il modo in cui li chiamano il popolo rachitico cioè per loro sono stranissimi sono irriducibili i nani per gli elfi non riescono fino in fondo a compenetrarsi forse perché li ha creati aule forse perché li ha creati fuori dal disegno di Luvatar forse perché non erano previsti nel piano e quindi gli elfi di fatto faranno sempre fatica a empatizzare con i nani li troveranno comunque strani particolari e strani a loro molto di più degli uomini perché invece elfi e uomini continueranno a vivere in simbiosi all'interno di tutta la storia della Terra di Mezzo cioè anzi si dirà che gli umani che gli uomini sono attratti dagli elfi gli elfi hanno un potere sugli umani e gli elfi troveranno anche un piacere nello stare insieme agli uomini proprio perché sono entrambi figli di Luvatar mentre qui i nani il problema è un po' più complesso e qui si dice come abbiamo letto che in realtà i nani apprezzavano di più avrebbero apprezzato di più i Noldor perché entrambi vicini a Aule perché i Noldor sono quelli di Aule che creano gli oggetti i nani sono attratti dalle gemme abbiamo visto quindi è una cosa fondamentale e qui Sindar ci sono già i primi elementi che poi porteranno a quello che succederà perché poi vedremo che Tingle con i nani avrà dei momenti difficili che poi caratterizzeranno tutta la sua storia e un'altra cosa questa delle gemme mi fa riflettere sul fatto che le invenzioni di Peter Jackson nella trilogia della Hobbit a proposito di Red Randwill che aveva un debole per le gemme argentate color lunare si spiega perfettamente perché Red Randwill è un discendente di questi Elfi è una particolare venerazione per questo tipo di gemme e vedendo poi quello che succederà proprio a Tingle a proposito di collane gemme e ne parleremo più avanti mi piace pensare che Peter Jackson si sia ispirato proprio a questa caratteristica dei Sindar e di questi Elfi d'argento che poi continueranno anche nel corso del resto della Terra di Mezzo tante botte arriveranno a breve molto presto tante botte va bene allora prima di dare la parola a Riccardo voglio leggere qualche commento Gian ci dice domanda ma quando avviene il risveglio dei nani eravamo rimasti aule che li addormentano nelle profondità della roccia e teoricamente dovrebbe avvenire dopo la venuta dei primogeniti è quello che gli dice i Lugata devono arrivare prima i primogeniti come dice lo stesso nome dopodiché vengono i nani quindi dovrebbero essersi risvegliati di sicuro dopo la venuta degli altri anzi a tal riguardo ho controllato perché mi ero visto la domanda di Gian prima sono andato a vedere che in the war of the jewels della history of middle earth la guerra dei gioielli c'è una nota di Tolkien che dice che i nani sono stati sono risvegliati nelle loro sette destinazioni dei loro sette clan durante la migrazione degli elfi verso Valinor quindi dopo la loro partenza da cui vienan però questo è un testo appunto pubblicato nella guerra dei gioielli quindi si parlare di canonicità in Tolkien è sempre azzardato però però diciamo che è in uno dei testi un po' più accessori perché io io supporto Massimo per me per quanto riguarda il canone torqueniano per me si è tranquillamente quindi si può parlare tranquillamente di canone poi Fabio ci dice da notare come Melian tesserazzi con ombre del futuro di Arda come fa Vire nelle aule di Mandos Melian è una maia ragazzi per questo ci siamo noi sbigottiti quando a vedere Galadriel nella serie di Tutta in quel mondo che Galadriel è stato al cospetto comunque di Melian ha vissuto in quel regno Melian gli avrà insegnato qualcosa a mantenere la calma a gestire la rabbia non lo so qualcosa gli avrà dovuto insegnare e invece sembra che non gli abbia insegnato verdura gli elfi del ghetto little valina esatto poi Frank mi ti resta la tua opinione su Fingal allora sì avevo letto prima la domanda stavo aspettando il momento per rispondere come personaggio mi piace non mi piace come poi si comporterà nella questione della Nauglamir per chi è curioso non vi vogliamo spoilerare nulla per chi è curioso c'è un video sul canale tranquillamente in quel contesto diciamo che secondo me sbagliano un po' tutti però sappiamo poi scopriremo il motivo per cui diciamo lì c'è la collana e ovviamente la collana fa impazzire tutti quanti un po' come succede anche con i sì come è successo anche con i sì insomma la storia bene o male si dipede quindi è un film che lo reputo un bel personaggio un ottimo re per quel poco che bene o male noi sappiamo che lui fa durante il periodo della prima era sta anche il fatto che forse viene un po' oscurato in certi momenti dalla presenza dei figli di Feano nel testo ovviamente nel racconto però lo reputo uno dei più uno dei re elfici di maggior prestigio della storia di Arda è sicuramente uno dei migliori ripeto la storia della Nauglamir lì sbagiano un po' tutti però ci arriveremo e lì sbaglia secondo me anche Fingor ve ne parleremo ovviamente penso a breve arriveremo a quel punto lì anche Shigeron ci dice interessante il fatto che direttamente o indirettamente Melkor è la causa dell'armarsi degli Eldar esatto i Sindar più giustamente ma anche loro per l'ombra del male si intravedono però io penso sempre a una cosa se tu per quanto tu possa vedere il male che avanza se tu non ti vuoi armare non ti armi molto molto semplicemente è vero tu magari puoi aver temere il fatto che per la tua sicurezza per la tua incolumità e quindi dici dobbiamo far qualcosa trova un modo diverso per contrastare l'ombra e voi mi chiederete in che modo ragazzi è lo stesso discorso che si sta facendo con Russia a Ucraina come la contrastiamo come la si aiuta l'Ucraina mandando solo le armi è l'unico modo che abbiamo per aiutare l'Ucraina è mandare le armi io non sono contrario a questa cosa però mi chiedo molto spesso ma siamo così sicuri che l'unico modo per aiutare l'Ucraina è mandare le armi non potevamo fare qualcosa prima di questa guerra adesso c'è un modo per fare diversamente oltre che mandare armi quindi perché al di là di tutto ragazzi le armi nell'universo di Toria nel nostro universo le armi portano sempre a qualcosa di sbagliato a qualcosa di male a qualcosa di brutto io questa cosa la ripeto ogni giorno a Kelly io e Kelly abbiamo un contrasto su questo argomento perché ovviamente lei ha la cultura americana dell'arma questo non c'è dubbio io odio profondamente con tutto me stesso le armi da fuoco apprezzo un po' più le armi bianche perché hanno il loro fascino perché le armi bianche anche quelle possono portare ovviamente a cose sbagliate però oggi bene o male le armi bianche le usiamo solo come collezionismo e queste cose qui romanticamente ci piacciono le armi bianche non il loro utilizzo esattamente poi anche perché le ricolleghiamo al genere fantasy insomma è un discorso io odio invece profondamente le armi da fuoco per quanto mi riguarda qualsiasi tipo di arma porta al male non ci sono usi positivi di un'arma per quanto mi riguarda anche solo minacciare un'altra persona o minacciare un'altra persona di rispondere a un attacco quindi se qualcuno mi minaccia con un'arma e io sto lì con la mia arma lo minaccio anche per me quello è sbagliato perché tu ti metti in una situazione in cui poi è difficile uscirne quindi le armi sono sempre sbagliate qualsiasi tipo di uso loro utilizzo quindi per questo vi dico che secondo me potevano gestire anche in questo caso il tutto in maniera diversa avrebbero potuto gestirlo in maniera diversa scelgono anche i sindar che comunque sappiamo che non sono gli alfi più alti dell'universo di Ardor non sono manco stati a Valinor questo vuol dire che siano dei deficienti però semplicemente forse ecco da loro me lo posso più aspettare rispetto che dai Noldor che stavano a Valinor e lì lì fu direttamente Melkor che influenzò Inoldor in quel contesto in questo caso è una influenza indiretta sempre come dice Shigerion di Melkor e potevano gestirla in maniera diversa secondo me sì preferiscono la via più più facile e quindi armiamoci questo è quello che fanno non si può combattere Morgoth usando il suo anello quale anello non è l'anello di Morgoth l'anello però era Sauron più in là più in avanti forse intendi in qualche modo bisogna combattere Morgoth ragazzi sono d'accordo non sto dicendo che le armi siano totalmente inutili ma che secondo me c'è sempre una via di uscita alternativa ora io non vi sto parlando del contesto di questo al di là del contesto fantasy adesso di cui stiamo parlando vi parlo in generale quindi non mi prendete alla lettera per quanto riguarda quello di cui stiamo parlando adesso anche perché in questo momento i Sindar non erano ancora minacciati in maniera diretta ma avvertivano solo questa minaccia velata quindi loro in maniera precauzionale perché qui ancora non hanno avuto delle minacce vere e proprie in maniera precauzionale che cosa fanno? Si armano io non mi ricordo se Melian la cintura la crea adesso o la creerà in futuro l'ha creata prima non mi ricordo la creerà dopo vedete Melian creo la cintura di Melian nessun'arma in qualche modo evita persino di far male agli orchi però lei mette in sicurezza il regno vedete nessun uso di armi ma lei salva il regno vedete che l'alternativa c'è sempre è ovvio gli Sindar sono fortunati perché tengono Melian però diciamo che un'alternativa secondo me si può sempre trovare come nel nostro mondo come nell'universo tolkeniano però ripeto scelgono la via più facile Frank pacifista oggi io sono sempre stato pacifista ragazzi non ho mai avanzato ho mai detto qualcosa da guerra fondaio io sono ragazzi ripeto molte persone che mi etichettano come fascista tazzista eccetera porno star comunista in realtà non mi conoscono per questo vi dico io sono il totale apposto di quello che molte persone pensano io sono il totale opposto io sono una persona estremamente liberale progressista e pacifista quindi per questo dico determinate persone si basano nel giudicare la mia persona solo su quello che io dico ho detto sulla serie va da sé che è molto estremamente limitante ripeto chi mi conosce sa cosa penso io di determinate cose comunque voglio lasciare la parola Riccardo abbiamo parlato pure troppo Riccardo vuoi aggiungere qualcosa altro di tutto quello che abbiamo detto Sì io sono molto affascinato come Paolo dai Sindar che vengono chiamati vi ho detto benissimo che sono un po' a metà tra i Mori Quendi cioè gli Elfi dell'Oscurità e i Cala Quendi gli Elfi della Luce che hanno visto Valinor in quanto loro hanno questi due sovrani straordinari e infatti Tolkien ci dice che vengono chiamati Elfi Grigi Elfi del Crepuscolo appunto a metà tra il buio completo e la luce piena il Crepuscolo è il momento che c'è tra all'alba e al tramonto in cui la luce è soffusa quindi è perfetto per descriverli e Tingle fra l'altro mi affascina perché è uno dei personaggi più antichi proprio a livello nel mondo nostro nel nostro mondo è uno dei personaggi più antichi ideati da Tolkien è uno dei primi che ha inventato perché le prime versioni del racconto di Tinuviel che è la prima forma la prima bozza di quello che sarebbe poi diventato il racconto di Beren e Luthien risalgono al 1917 quindi il personaggio di Tingle l'antesignano di quello che sarebbe diventato poi Tingle anzi no già quella volta si chiamava Tingle Tinuelint ah esatto Tinuelint bravo esatto non si chiamava ancora Tingle capito quindi questo Tinuelint nella testa di Tolkien Tingle è nato più di un secolo fa nel nostro mondo cioè il personaggio di Tingle il personaggio di Beren il personaggio di Luthien sono nati prima dei surgelati non abbiamo accennato né io né Paolo abbiamo accennato la nascita di Luthien di solito Tolkien si dedica qualche parola alla nascita di alcuni dei personaggi principali ma qui ce la descrive proprio cioè ce la descrive proprio delle aggettivazioni non a caso lui ce la descrive in questo modo in maniera così approfondita stiamo parlando semplicemente della nascita del personaggio quindi è fatto benissimo a sottolineare la cosa e poi volevo ringraziare anche il mastro ridrettista grazie benvenuto anche a te a Balinor leggo gli ultimi commenti e poi andiamo con la seconda parte non è un armamento due giuntine ah vai no 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 volevo dire due cosette sui nani secondo me è giusto specificare che i nani che noi vediamo qua appunto è stato specificato che casa Doom appunto nelle reggende della prima era è solamente un nome una voce una diceria di cui si parla perché ovviamente è troppo lontana dal Beleriand per avere un peso negli eventi che succedono che vediamo succedere nel Silmarillion per cui noi ci concentriamo sulle città di Nogrod e di Belegost di cui abbiamo visto anche i nomi in lingua nanica e queste due queste due città non sono città del popolo di Durin che è quello che invece avrà peso nella seconda e nella terza era qua noi non abbiamo gli antenati di Gimli di Torin Scudo di Querce dei nani famosi nel leggendario un tolkieniano perché i lungobarbi cioè il popolo di Durin si trova a Moria ma Belegost e Nogrod sono abitate da discendenti di padri di altri due di altri due stirpi dei nani perché qualcuno chiedeva appunto della nascita dei nani i nani nascono posizionati in sette come i sette nani di Biancaneve posizionati ciascuno sotto una catena montuosa Durin si sveglia da solo sotto il monte Gundabad che è la più settentrionale delle montagne nebbiose e poi scende e trova Moria all'est nei monti del Run troviamo i nani di altre quattro casate di cui adesso non mi ricordo precisamente i nomi e invece a occidente nel Beleriand sotto i monti azzurri si risvegliano i due nani che sarebbero diventati i capostipiti delle due casate dei barbafiamma e dei vasti fasci così vengono tradotti in inglese sono firebirds e broadbeams infatti broadbeams in realtà probabilmente più che vasti fasci vuol dire largo fusto cioè che fossero piuttosto corpulenti però può anche vuol dire vasti fasci siccome Tolkien non ci specifica cosa voglia dire beam in quel caso si apre a interpretazioni cosa significa il nome di questi nani per cui è importante capire che questi nani non hanno nulla a che fare con i nani che poi vedremo protagonisti dell'Hobbit e del Signore degli Anelli e a proposito dell'Hobbit quando Tolkien scrisse l'Hobbit non era ben distinto il personaggio di Tingle da quello di Trundwill lui all'epoca non aveva ancora incasellato l'Hobbit nel legendarium che stava costruendo per cui non sapeva che doveva far parte di quel mondo era semplicemente una storiella a sé stante per cui riciclò l'idea del re elfico che viveva sotto nella grotta scavata dei nani che aveva già inventato come Tingle e creò questo re elfico che tra l'altro in Lobbit non ha un nome Tolkien lo chiama solo The Elven King il nome il nome Trundwill se lo inventò in seguito quando decise appunto che Lobbit doveva far parte di tutto il mondo che stava creando per cui è affascinante pensare che quando lui scrisse Lobbit probabilmente nella sua testa Trundwill era Tingle o comunque un personaggio alla Tingle non era ben distinto infatti nel capitolo in cui ci viene presentato il re elfico dell'Hobbit ci viene detto in modo molto sfumato le origini dell'inimicizia che c'era tra l'elfico re e i nani della famiglia di Thorin e ci viene detto che non ricordo precisamente le parole però insomma praticamente ci dice la storia della Nauglamir senza entrare troppo nel dettaglio ma ci dice la storia della Nauglamir e dice anche che gli elfi quelli silvani di cui si parla nella Hobbit sono più sfuggenti e meno saggi perché non sono mai stati a Valinor e quindi ci dà già una caratteristica sì è vero frase ripresa anche nel film della Hobbit va bene allora ragazzi leggiamo gli ultimi commenti poi andiamo voglio ringraziare il masturitattista lo ringrazio già prima grazie ancora e poi Mario ci fa una domanda molto specifica Riccardo e Paolo Frank per voi quando inizia la prima era io dico nasce la luna e il sole ultima domanda sì allora secondo la concezione comune quella accettata più comunemente con il risveglio degli uomini quello è proprio l'inizio della prima era e quindi l'arrivo anche di Fingolfi nel Beleriand però diciamo che in alcuni passaggi Tolkien nella sua concezione a volte si è riferito alla prima era anche ad alcuni eventi avvenuti leggermente prima però diciamo comunemente accettato dall'inizio della prima era con il risveglio degli uomini alcuni invece si confondono con l'arrivo di Feanor nel Beleriand no quella più comunemente accettata del risveglio degli uomini nel Lil Dorian se non sbaglio dovrebbero essersi risvegliati non vorrei ricordarmi male il luogo dove si risvegliano dovrebbe essere Lil Dorian e va bene allora Rick seconda parte che dici? prontissimi ah che edizione stai leggendo? è la stessa edizione che abbiamo in canto aspettate che allora io ho l'edizione in digitale un attimo che ve la metto allora ho l'edizione quella dove c'è la traduzione di Francesco Sabasardi e come vi posso dire l'edizione dove c'è sulla copertina quella dovebbe essere sempre un'illustrazione di Ternesmith dove c'è questo elfo credo che sia un elfo non mi ricordo esattamente qual è l'identità di quel personaggio che sta probabilmente a Tyrion questa dovebbe essere Tyrion e guarda in alto in questo modo su delle scale in cima delle scale una rampa sì dovrebbe essere Erendil Erendil che arriva a Valinor esatto ok quindi è praticamente l'edizione dove in copertina c'è Erendil credo sì ok Erendil quella dovrebbe essere l'illustrazione di Ternesmith se non ricordo male Erendil che arriva a Valinor sta su questa rampa di scale e guarda verso il cielo quella è l'edizione non so in che altro modo specificare Comunque diciamo la verità sono la traduzione è sempre quella perché è quella di Sabasardi poi c'è quella che sto usando io che è quella rivista da Respinti che però è sempre la traduzione di Sabasardi dove Respinti ha fatto delle piccole modifiche quella ma le ha fatte soprattutto all'inizio e dopo è uguale da un certo punto io l'ho letta e non cambia niente esattamente cambia qualche parola ma non si può parlare di cambiamento di traduzione infatti io non so che senso ha proporla come una traduzione nuova una cosa che bene o male è cambiata due parole stessa operazione fatta con l'Hobbit che era stato tradotto meravigliosamente da Elena Gironimi di Sconte poi è arrivata Caterina Ciufferri che ha cambiato qualche parolina qua e lì e viene detto che è la sua traduzione non è vero ha solo cambiato qualche parolina ovviamente sapete meglio di me che sono operazioni fatte per rivendere quel libro perché altrimenti se tu dici vabbè abbiamo cambiato qualche parola nessuno solo compra un libro invece tu dici abbiamo cambiato una traduzione più aggiornata parole nuove abbiamo inventato nuove parole esatto però almeno però almeno col Silmarillion hanno avuto l'onestà di dire riveduta da Marco Respinti mentre invece nell'Hobbit hanno detto ritraduzione che non è affatto una ritraduzione è solo qualche parolina cambiata quella io odio quell'operazione la ritraduzione è stata quella che ha fatto fatica lì non c'è ombreo di dubbio quella è una nuova traduzione quella è una nuova traduzione va bene Rick allora riprendiamo quindi la lettura seconda parte del capitolo dieci di Sindar e arriviamo fino alla fine sono tre paginette sì sono tre paginette prego via buona lettura e buon ascolto or dunque come si è narrato un certo lenue della schiera di Holwe abbandonò gli Eldar in marcia all'epoca in cui i Teleri erano trattenuti presso le rive del grande fiume ai confini delle regioni orientali della terra di mezzo punto o poco si sa delle peregrinazioni dei Nandor da lui condotti con sé verso l'Anduin alcuni così si dice dimorarono a lungo nei boschi della valle del grande fiume altri pervennero alla fine delle bocche altri pervennero alla fine alle bocche di questo e abitarono presso il mare e altri ancora superati gli Ered Nimrais i monti bianchi tornarono a nord e penetrarono nelle solitudini di Eriador tra gli Ered Luin e i remoti monti brumosi ed erano costoro un popolo dei boschi e non avevano armi di acciaio sicché l'arrivo di bestie feroci dal nord li riempì di sgomento come in Augrim riferirono al re Thingol in Menegroth allora Denethor il figlio di Lenue all'orecchio del quale era giunta notizia della potenza di Thingol e della sua maestà nonché della pace di cui godeva il suo regno raccolse quanti più poteri del suo popolo sparso e li condusse di là dai monti nel Beleriand qui furono bene accolti da Thingol come consanguinei da tempo perduti che facciano ritorno e dimorarono in Ossiriand la terra dei sette fiumi dei lunghi anni di pace che fecero seguito all'arrivo di Denethor poco è detto si vuole che in quei giorni Dairon il menestrello principale a Edo del regno di Thingol ideasse le sue rune e i Naugrim che si recavano da Thingol le appresero e furono assai compiaciuti di quell'espediente al punto da tenere l'abilità di Dairon in più alta stima di quanto non facessero i Sindar il popolo cui egli apparteneva dai Naugrim le Kirth furono portate a Est di là dai monti e giunsero a conoscenza di molti popoli ma scarso uso trovarono presso i Sindar per la registrazione di eventi sino ai tempi della guerra e molto di quanto era demandato alla memoria peritra le rovine del Doriath del resto di felicità e vitalieta ben poco si può dire prima che abbiano termine dal momento che opere belle e magnifiche finché durino e siano visibili ne costituiscono la testimonianza e solo allorché periclitano o per sempre vanno distrutte passano nei canti nel Beleriand in quei giorni gli Elfi si aggiravano e i fiumi scorrevano e le stelle brillavano e i fiori notturni emanavano i loro profumi e la beltà di Melian era come la luna e quella di Luthien come l'aurora in primavera nel Beleriand Rethingol seduto sul suo trono era come i signori dei Maiar il cui potere è pace la cui gioia è come un'aria che essi respirino di continuo il cui pensiero fluisce come una corrente tranquilla dalle vette alle pianure nel Beleriand di tanto in tanto ancora passava a cavallo Orome il Grande superando come un vento le montagne e il suono del suo corno calava dalle lontananze stellari e gli Elfi lo temevano per lo splendore del suo sembiante e il gran rumore della corsa di Nahar ma quando il Valaroma eccheggiava tra i colli ben sapevano che ogni creatura malvagia era fuggita accadde però alla fine che il termine della felicità fosse vicino e che il meriggio del Valinor stesse avviandosi al crepuscolo perché come si è narrato e a tutti è noto essendo scritto nella tradizione e cantato in molti canti Melkor uccise gli alberi dei Valar con l'aiuto di Ungoliant e fuggì e tornò alla terra di mezzo lassù al nord ebbe luogo la lite tra Morgoth e Ungoliant ma il grande urlo cacciato da Morgoth e cheggiò per tutto il Beleriand e Quivi non fu chi non si facesse piccino per la paura perché sebbene non sapessero che cosa presagisse avevano udito l'araldo della morte poco dopo Ungoliant fuggì dal nord e penetrò nel regno del re Thingol e una terrorizzante tenebra stava attorno a lei ma grazie al potere di Melian Ungoliant venne bloccata e non entrò in Eldoreth ma a lungo abitò all'ombra dei precipizi con cui il Dorthonion declinava a sud e quei precipizi furono noti come Ered Gorgoroth i monti di terrore che nessuno osava recarvisi o passare nelle loro vicinanze ivi vita e luce erano soffocate ivi tutte le acque erano avvelenate grazie grazie Riccardo bellissima lettura ragazzi allora questa seconda parte è ricca di informazioni mamma mia è un casino vabbè proviamo a fare un ottimo ordine abbiamo assistito alla prima guerra del Belera tra l'altro io vi ho già parlato in un video specifico è la guerra che innaura la prima era tanto è vero che come abbiamo visto alla fine il periodo contemporaneamente al verificarsi di questa guerra molti potrebbero chiedersi ma dov'era Feanor dove erano i piedi di Feanor in Odor in questa guerra stavano arrivando era in quel momento che mentre la guerra avveniva Feanor sbarcava ce lo dice alla fine del capitolo quindi partiamo da questo presupposto quindi tutto ciò avviene in mancanza dei Noldor gli unici elfi presenti in questo momento nel Belenian sono gli elfi di Fingol gli elfi di Kirdan e gli elfi verdi vi ricordo ragazzi tra l'altro non fissatevi gli elfi verdi perché noi vedremo anche nella serie probabilmente in futuro che probabilmente Arondir fa parte di questa razza qui di questa stirpe elfica con molta probabilità perché lui ci parla del Valerian ci parla di un fiume quindi con molta probabilità Arondir fa parte di questi lai quendi cioè gli elfi verdi che vivevano nello Siriano io questa cosa pure ve l'ho detta ah grazie Tingli per benvenuto a Valerian comunque allora prima di andare di accennare a una questione Ungolian Melian di cui ci terrei a parlare voglio farvi brevemente il riassunto di questa guerra come vi ho detto ve ne ho già parlato però dato che a me mi piacciono le mappe mi piacciono le guerre sono della storia perché mi piace la storia quindi ma non mi piace la guerra di per sé come vi ho dicevo prima vi voglio raccontare questa guerra allora che cosa succede il nostro Melkor ve la vedete la mappa? sì la vedete il nostro Melkor crea qui sopra le tre cime Tangroodrim lì e quindi crea essenzialmente Angband è presente qui sopra questa pianura qui la pianura dell'Aufaglitz è la pianura che è posta davanti la piana davanti ad Angband anche se l'Aufaglitz non esiste ancora infatti questa è una mappa che contiene un po' tutto perché come sempre è una mappa didattica che io uso per quei scopi lì comunque per dare un'idea Angband è presente qui ora come vi dicevo prima in questo periodo quindi gli elfi di Fenor non sono ancora sbarcati qui questa regione qui cioè vicino alla regione bene o male dell'Ammoth stanno sbarcando e avviene questa guerra gli elfi presenti allo stato attuale nel Beleriand sono gli elfi di Fingol che sono posti nel Doriath poi tutta questa regione con il Nelloref il Limbar e così via gli elfi di Kirdan che sono posti invece qui dove vi sto indicando cioè nel Falas e gli elfi verdi che sono posti qui in basso nello Sirian cioè la regione dei fiumi ora che cosa accade che gli orchi attaccano il Doriath ok praticamente il Doriath si trova accerchiato perché gli orchi attaccano sia da occidente sia da oriente quindi si trovano divisi dagli elfi di Kirdan e dalle Falas e si trovano teoricamente divisi anche dagli elfi dell'Ossirian però gli elfi dell'Ossirian prendono coraggio e fanno un grave errore una cosa che non avrebbero dovuto fare perché incapaci di fronteggiare una guerra del genere e quindi arrivano in aiuto di Fingal quindi gli elfi verdi letteralmente ragazzi si sacrificano praticamente perché io credo che loro fossero consapevoli della loro scarsità di mezzi in confronto magari agli orchi o agli altri elfi loro nonostante tutto Denethor è non quello che noi conosciamo da Gondor ma il Denethor che appunto si sacrifica da eroe in questa guerra arriva in aiuto di Fingal e quindi probabilmente gli elfi dell'Ossirian vengono in aiuto degli elfi di Grigidil di Fingal che cosa accade? che comunque riescono ad aiutare i propri cugini e però purtroppo Denethor in questa battaglia che avviene tra il Galeon è un altro fiume di cui non ricordo il nome comunque avviene bene o male in questa regione qui esatto in questa regione qui in questa battaglia che cosa accade? che Denethor finisce per essere circondato su questo monte qui questa è la montagna incriminata dove viene ucciso quindi qui muore Denethor vedete questa regione qui vedete questa questa catena montuosa che parte dal Nargothrond e arriva fin a ridosso del fiume Galeon questo è il monte dove muore Denethor che come potete vedere ci troviamo nell'esatta regione dove avviene questo scontro tra gli Elfi Verdi e gli Orchi che avevano attaccato il Doriat tra l'altro ha senso perché gli Elfi Verdi attaccano il braccio orientale dell'armata dell'armata di 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 Ankhban quello che l'aveva cerchiato quindi sulla nostra destra mentre gli Orchi che erano l'avevano cerchiato sulla sinistra vengono ovviamente parte almeno rispinti e che cosa fanno gli Orchi che avevano cerchiato sulla sinistra il Doriat vanno ad attaccare le Falas quindi vanno attaccare gli Elfi di Kyrdan ora muore Denethor gli Elfi Verdi ci rimangono male ovviamente pagano il loro coraggio il loro eroismo al costo però di non ripudiare definitivamente la guerra anche se sbaglio non sarà così parteciperanno ancora qualche volta a qualche tipo di guerra però a grandi linee loro dopo questo evento ripudieranno la guerra proprio per la tragedia a cui sono andati incontro e probabilmente avranno comunque subito una strage quindi avranno ne escono vincitori insieme agli altri elfi però hanno pagato un grave costo alcuni di questi elfi vanno nel doria quindi entrano nel regno di fingol e altri rimangono nel siria spostiamoci quindi a occidente a occidente come vi dicevo gli orchi respinti dai sindar probabilmente anche grazie all'aiuto degli elfi verdi che quindi gli elfi di fingol sul lato orientale hanno diciamo dovuto hanno avuto avranno avuto minori difficoltà perché aiutati dagli alfi verdi provenienti appunto dall'oriente da est mentre a occidente i quindi i probabilmente queste sono speculazioni che sto facendo in base alle alle informazioni che tolkien ci dà e gli elfi i alfi grigi quindi avranno riversato buona parte la loro potenza la potenza di fuoco sull'occidente dove si sono venuti a fronteggiare un'armata di orchi senza l'aiuto invece degli elfi delle falas che a quanto pare non sono corsi in soccorso degli elfi di fingol forse perché kirdan era consapevole che non avrebbero potuto fare nulla non lo so il testo non ce lo dice questo e infatti che succede vengono respinti questi orchi e vanno ad attaccare il falas vanno ad attaccare il regno di kirda a questo punto chi fingol come vi dicevo prima dal re grande re eroico anche lui ormai la battaglia l'ha vinta di certo non ha paura di fronteggiare quegli orchi che erano erano andati ad attaccare a assediare le falas e lui che cosa fa va ad aiutare kirdan e quindi a quel punto vincono la battaglia la guerra questa prima guerra del belerian questa è la prima appunto la prima guerra del belerian come vi dicevo c'è un video specifico sul canale per chi volesse ulteriormente approfondire ancora meglio la questione e poi che cosa volevo specificare e poi lascio la parola a paolo si fa a tolkien accenna un goliant prima ci dice che un goliant sembrava entrare nel nel regno di fingol a un certo punto ci dice aspettate voglio riprevendere quel quel pezzo ci dice che un goliant ecco qui poco dopo un goliant fuggì dal nord e penetrò nel regno di fingol quindi penetra nessun regno e una terrorizzante tenebra stava attorno a lei ma grazie al potere di melian un goliant venne bloccata e non entrò in nello ma a lungo abito all'ombra dei civizi con cui il dorthonion e declinava a sud ora eccoci qui con lì la probabilmente un goliant fa questo tragetto qui se non ricordo male nell'ammoth avviene l'incontro lo scontro tra morgo e un goliant un goliant quindi fugge attraversare avrà attraversato con molto probabilità l'iflu per poi riversarsi nella piana nella zona settentrionale dove poi sorgerà adesso è sorta eh angba e raggiunge nel dorthonion probabilmente avrà si sarà spinta ancora più a sud quindi regioni del dorthonion regione dell'arer gorgoras e avrà cercato di entrare nel regno di fingol tramite questo bosco questa questo quartiere del 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 regno di fingol cioè nel nerolef questa sezione settentrionale del bosco del del doria però qui tolkien non è chiarissimo perché ci dice riesce ad entrare nel regno di fingol e il regno di fingol però è solo questo teoricamente no teoricamente secondo formalmente questo è il bosco la regione bosco l'arer gorgoras e il dorthonion non è considerabile regno di fingol e però poi ci dice grazie al potere di melian un goliant viene bloccata ora innanzitutto vai a capire che cosa si intende per poter di melian cioè un goliant cerca di entrare nel doria quindi nel dorthon prima o dopo che melian crea la cintura come possiamo vedere alla fine della guerra della prima guerra della della del belenia perché gli orchi entrano nel doria quindi questo ci fa capire che melian la cintura la crea dopo però a questo punto io mi chiedo come fanno come fa un goliant a entrare nel regno di fingol se in realtà melia la bloc la la blocca con la propria con il proprio potere e un'altra cosa che viene detta sempre in questo capitolo è che gli unici che possono penetrare potrebbero penetrare la cintura di melian sono coloro che hanno una maggior un maggior potere di melia che è una maia lo sappiamo questo che cosa andrebbe a dirci io ripeto ho questo dubbio io l'ho sempre avuto cioè un goliant riesce o no a entrare nel regno di fingol ci riesce ad entrare se riesce ad entrare quando ci entra primo dopo la creazione della cintura e tutto il resto perché questo dubbio va a darci informazioni anche su quelle che potrebbero essere le origini di un goliant perché se un goliant riesce a penetrare la cintura di melian per poi essere scacciata non solo a uno scontro tra melian e un goliant questo vuol dire che un goliant è più potente di media e quindi più potente di una mai di un di una maia noi l'avevamo anche ipotizzata all'epoca quando parlamo di 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 un goliant delle sue origini io avevo potenzialo potesse essere una maia insomma abbiamo fatto varie ipotesi se invece lei non riesce a penetrare nel nellore perché c'è la cintura di ma di melian e quindi melian è più potente di un goliant qui andremo a ridimensionare goliant però lì verrebbe a crearsi un contrasto tra melcor e un goliant perché abbiamo visto nel l'incontro che melcor melcor si è scusatemi mi scuso per la scarsa eleganza di quello che sto per dire si è letteralmente cagato in mano davanti a un goliant e quindi stiamo parlando di un balar e allora io so che qui stiamo facendo dei discorsi estremamente nerd però e il bello è anche questo per il modo perché tramite questi discorsi noi possiamo magari sa sempre ovviamente in maniera indiretta fare del dare un po di chiarezza alle origini di esempio del personaggio di un goliant della creatura e quindi da una parte abbiamo indizi che ci portano a pensare che un goliant è meno potente di melian dall'altra però abbiamo indizi che ci portano a pensare che addirittura melcor aveva paura di un goliant melcor non è manco una maia è un balar quindi dove si pone un goliant sulla scala di potere la scala gerarchica dove la possiamo inserire e ripeto la questione del melian un goliant è io la me mi risulta dubbia perché leggendo ancora una volta il testo un goliant fuggito al nord e penetrò nel regno di reffingol qui è letteralmente l'ho letta la par il passaggio ora il regno di reffingol noi lo possiamo considerare quello che vi dicevo prima i boschi lì l'ergo non è il regno di fingol almeno formalmente e poi e una terrorizzante tenebra stava attorno a lei ok ma grazie al potere di melian un goliant venne bloccata e non entrò in eldoret ma a lungo abito all'ombra dei precipizi con cui il dorthonion declinava al sud e quei precipizi poi furono noti come erer gorgeroth fra l'altro sono i precipizi dove poi beren incontrerà shelob che è progene di un goliant questo però lo scopriremo in futuro e quindi tolkien che cosa ci stai dicendo un goliant riesce ad entrare e viene scacciata o non entra proprio e allora se non entra proprio quel entra nel regno di fingol allora potrebbe ridimensionare a questo punto il regno di fingol a questo punto potremmo pensare che nelle in questa nelle intenzioni di di saura nelle intenzioni di tolkien il regno di fingol in questo periodo in cui ancora gli elfi nodo non erano arrivati possiamo considerare che magari si estendeva al di là del semplice doriath nel dor e così via magari si estendeva fino agli erer gorgeroth addirittura oltre fin quando poi non creeranno i rispettivi regni il regno di melcor al nord e i vari regni figli di feano reivari in oldo e quindi i regni possiamo considerarli in questo periodo le falas di chirda le sirian degli alfi verdi e tutto il resto è di fingol ragione in questo modo noi possiamo pensare che allora un goliant è entrata nel regno di fingol già solo entrando nel belerian questo giustificherebbe una tale affermazione però ancora una volta li andrebbe a ridimensionare totalmente il personaggio di un goliant perché l'abbiamo vista prima fronteggiare melcor con in tutta la sua potenza e adesso non riuscire a penetrare il potere di melian e come ci dice lo stesso torque chiunque più forte di belian poteva penetrare con la cintura e lei non ci riesce quindi è meno potente di una maia quindi questo ridimensionerebbe tantissimo il personaggio di un goliant detto questo ho fatto un po di riflessioni che mi andava di fare e lascio la palla bollente a paolo vai paolo per come la vedo io un goliant mette piede prima della foresta di neldoret e già è nel doriat ci sarà una striscia di terra che già è già doriat e in quel momento viene bloccata indipendentemente dalla creazione della cintura di melian io credo che qui il potere vada di melian vada fatto una riflessione a proposito perché spesso in tolkien come stiamo facendo adesso ci si chiede ma cosa in cosa consiste il potere dei singoli personaggi di queste entità incredibili è un potere fisico è un potere spirituale non si può sapere infatti come in dragon ball esatto l'onda energetica più forte dei livelli di potenza esatto è un po difficile da fare cioè non c'è non è un gioco in cui acquisti il potere sblocchi l'abilità e sconfiggi cioè se noi vediamo non riesci a avere una comprensione del tutto perché noi abbiamo visto che un goliant al pieno del suo potere cioè piena di luce mangiata e al massimo della sua produzione di oscurità è talmente potente che sta per eliminare melkor e e lì però arrivano i balrog e i balrog riescono a scacciarla perché dice il testo che lei deve subire le loro fruste e allora fugge però melkor da sconfiggere uno dice un goliant è il personaggio più forte della terra di mezzo del belerian ma poi alla fine vediamo che arriva qui e melian riesce a bloccarla io non credo che melian sarebbe mai riuscita a bloccare da sola melkor cioè quindi non è che cioè due superiore a uno e l'altro è tre e quindi sconfigge poi anche tre sconfigge uno non è detto e questo lo dico perché spesso c'è la domanda che anche mi viene rivolta è ma in fondo me morgot era più forte di sauro ma anche qua col che stesso dice che sauro con l'anello nella seconda era era più forte di morgot alla fine della prima era perché morgot ha perso parte della sua essenza perché l'ha dispersa nella materia prima di arda e quindi progressivamente si è sempre più impoverito e indebulito ma poi noi sappiamo per esempio che nel combattimento con fingolfing morgot viene ferito e si porterà per sempre le ferite di quelle che gli ha dato fingolfing una cosa strana perché uno pensa è il dio del male si rigenera e invece porta delle delle ferite fisse nel suo corpo e come sauro che perde il dito dove aveva l'anello e c'ha quattro dita e non gli spunta più il dito anche se era un poteva darsi l'aspetto che voleva quindi in realtà non c'è un modo per quantificare il potere in tolkien cioè lui dice queste cose ma sono divinità che di fatto riescono a bloccarsi a vicenda c'è alcune hanno dei particolari poteri nei confronti di altri di altri personaggi e per fortuna cioè basta pensare la c'è un erendil che riesce ad abbattere un calagon ma riesce ad abbattere anche un goliant in una delle versioni anche lì come fa un elfo a far fuori un goliant che stava per ammazzare morgot cioè sono cose abbastanza inspiegabili certo è che se si pensa il potere di melian ecco è immenso infatti noi sappiamo che il doriat sarà sempre protetto e schermato dall'azione di melian fino alla fine e che svanirà questo potere quando melian lascerà il belerian e tornerà a valinor e lasciando campo libero a agli altri cioè ai nemici che arriveranno e distruggeranno il doriat quindi il potere di melian è è veramente incredibile cioè è un personaggio che affascinante anche per questo perché riesce a controllare con la sua magia che non sappiamo che cosa sia il suo potere difensivo un personaggio del genere come un goliant probabilmente dobbiamo ricollo ricondurci a quello che ci diceva prima che dicevi fra tu frank a proposito del prendere le armi del fare la guerra probabilmente la magia di melian funziona solo in chiave difensiva e quindi lei ha potere proprio per questo per preservare ciò che è bello per preservare un angolo copiato da valinor non lo sapremo mai certo è che questo fa pensare ancora di più al personaggio di galadriel perché se galadriel ha preso da lei ed era la sua allieva si capisce perché galadriel dopo è stata con lei che con l'anello è riuscita a bloccare anche i nemici di lot lorien e ha creato questa specie di cintura intorno all'ot lorien e si capisce anche perché galadriel riusciva a amplificare cioè il suo potere di penetrare la mente il cuore delle persone che c'è già all'inizio della sua storia come ci viene raccontato nei racconti incomputi ma poi attraverso le arti di melian le avrà raffinate ancora di più e questo mi fa pensare che saurum non sarebbe mai e poi mai riuscito a entrarle nella testa come abbiamo visto nella serie televisiva perché figuriamoci con questo pregresso alle spalle cosa cosa sarebbe stato c'è probabilmente galadriel che sarebbe entrata nella mente di saurum per vederla dentro e e poi l'ultima cosa che mi è piaciuta tantissimo si parla di daeron il menestrello che nella prima versione della storia di darren e luthien è il fratello di luthien poi non è più stato il fratello perché così si spiegava anche tutto l'attaccamento morboso che tingola nei confronti di luthien perché era figlia unica invece nei per esempio nei racconti perduti scopriamo che aveva un fratello questo da iron da iron che fa il menestrello è bello che da iron che poi invece cioè le cose quando vanno bene non c'è bisogno di ricordarle ma bisogna ricordarle rammentarle quando non ci sono più e qui arriva l'arte arriva la poesia cioè quella frase bellissima che dice che la poesia il canto servono proprio a questo e quindi questo da è uno squarcio sulla concezione che ha tolkien dell'arte della capacità dell'arte di eternare qualcosa è una cosa che tornerà nel signore degli anelli noi vedremo che tanti personaggi saranno legati a quest'arte a questa a questo canto che eterna leggesta dei grandi guerrieri dei grandi tempi che furono i poemi e questa questa arte può anche sviare i personaggi perché si può preferire questa arte non solo per ricordare i tempi belli ma si comincia a pensare che l'arte serva per invece per il proprio orgoglio per la propria superbia per eternare se stessi per venire ricordati per sempre quindi questa questa riflessione dell'arte di tolkien è bellissima perché fa vedere che l'arte è una cosa bella le varie facce dell'arte la musica le arti plastiche la scrittura però ci sono anche i rischi legati all'utilizzo di quest'arte perché come sempre le cose possono essere pervertite e usate in una maniera sbagliata vero allora ringrazio e ringrazio anche melco grazie ragazzi benvenuto melco benvenuto a valido e poi prima di leggere un po di commenti voglio lasciare la parola a riccardo prego riccardo vuoi aggiungere qualcosa io solo applausi per questo discorso meraviglioso che ha fatto che ha fatto paolo se non l'hai già fatto ti consiglio di fare un bel video su questo discorso inerente a all'arte agli scopi eternatori dell'arte in tolkien il modo in cui essere pervertita perché una finestra meravigliosa e quindi davvero complimenti paolo per questo ragionamento ineccepibile come sempre e cosa volevo dire mi ero segnato delle cose mentalmente volevo dire ma non mi ricordo più anno io volevo parlare un pochino dei dei laiquendi visto che sono un popolo così poco conosciuto questi questi poveri elfi verdi così ingenui che appaiono praticamente solo però canonici esatto eroici però eroici certo canonici su cano cioè stanno qui nel settimane tutto canonico e si sono sono assolutamente eroici non li vediamo fare più niente per tutto il resto della prima era li vediamo solo come figure marginali di passaggio vengono menzionati qualche volta per esempio bere nell'utien vanno a vivere presso la loro isola quando dopo che appunto succederà quel che succederà poi parteciperanno alla battaglia di sarnatrad contro i nani fanno delle comparsatine però pochissimo e scompaiono dagli annali della terra di mezzo successivamente noi non sappiamo che fine fanno gli elfi verdi nella seconda era non sappiamo se esistono ancora nella terza era ho visto adesso brevemente su talking gateway che ci viene detto che loro dopo la distruzione del belerian nei primi anni della prima della seconda era dimorano sulle rive del lago nenuial dove poi sorgerà la città di annuminas del regno di arnor però questo è l'ultima l'ultimo momento in cui noi intravediamo questi poveri questi poveri elfi verdi che dopo questi due signori che hanno avuto l'enue prima e denethor dopo denethor tra l'altro è bellissimo il nome che ha in lingua nella lingua sua perché denethor è la sindarinizzazione del suo nome da elfo verde perché nella lingua degli elfi verdi il suo nome era danitaro è che trovo meraviglioso sembra un personaggio giapponese o un capo pelle rossa è meraviglioso e ti voglio mandare frank un'immagine bellissima degli elfi verdi mi sono salvato che su me li cattura perfettamente guarda di qua ti ho mandato appena su whatsapp sì la conosco si immagina è proprio bella l'adoro l'adoro è sempre di turner mohan quel quel disegnatore tolkieniano che conobbi che conobbi anni fa e che ospitai pure a casa mia in un periodo passo a roma e li trovo bellissimi ricordano un po i navi di di avatar sembrano un po dei pelle rossa se me li ricarica perfettamente trasmettono anche sia la loro come sono stati rappresentati sia la loro purezza che la loro innocenza ingenuità cioè sono sembrano dei delle creature perfettamente in sintonia con il mondo che le circonda ovviamente con le foreste essendo loro appunto gli alti verdi e vestiti così appunto uno uno si chiede ma come avranno mai potuto affrontare degli orchi vestiti di metallo di acciaio come ci dice tolkien sono bellissimi perché riesce a intravedere la loro nobiltà il loro coraggio il loro eroismo c'è chi di noi non considera i pelle rossa un popolo fenomenale degli eroi però chiaramente contro i conquistadores contro contro gli europei che cosa che speranza potevano avere quindi lo trovo lo trovo lo trovo un concept davvero bello dire di raffigurarli e che cosa altro volevo dire avevo in mente delle altre cosette da dire ma adesso sinceramente mi mi sfuggono sono stato ipnotizzato dal discorso che ha fatto paolo ah sì ecco lui parlava di di galadriel che appunto è assurdo perché come ci fanno vedere nella sedia che sauron le penetra il pensiero cosa pensavate ecco ho usato una parola infelice e che anzi era lei che l'ogic che avrebbe dovuto entrare nei pensieri di lui questo tolkien ce lo dice esplicitamente nel capitolo lot lorien quando prima ancora che noi vediamo galadriel ce lo dice aldir quando loro salgono sulla sulla collina di che era in amroth e vedono e aldir l'elfo il guardaboschi di di galadriel fa vedere dall'alto di un luogo elevato in lontananza a frodo gli fa vedere dol guldur la rocca dove anticamente dimorato sauron che adesso è abitata da un potere molto più grande e dice è sempre da questa altura si possono scorgere i due poteri contrapposti quello di dol guldur e quello della dama ma mentre l'ombra si sforza sempre di di scrutare nel cuore della luce il suo potere non è stato ancora svelato mentre mentre la luce riesce a penetrare nel cuore dell'oscurità e a vedere dentro di lei e la stessa galadriel poi dentro nel capitolo lo specchio di galadriel dice che sauron cioè nel momento in cui rivela a frodo di possedere l'anello negna gli dice che sauron cerca sempre brancola sempre nel buio alla ricerca di questa benedetta lotlorian cerca sempre di vederla di scrutare il suo pensiero ma la porta è ancora chiusa dice dice questa cosa quindi quindi ecco in questo caso possiamo proprio vedere che galadriel è più potente di sauron che è illogico se lo consideriamo da un punto di vista dragon bolliano di livelli di potenza sauron è di un livello di potenza superiore a galadriel eppure galadriel in questo ambito lo vince così come melian riesce a vincere un golem non è come dragon ball dobbiamo questa cosa va sottolineata più e più volte e tanto più che ci veniva detto questo paradosso se avevi tu per questo paradosso che ci viene detto che mel che melcor viene battuto da un golem ma poi melian riesce a battere un golem quindi questo vorrebbe dire questo paradigma vorrebbe dire che melian può battere melcor allora io voglio specificare solo giustamente come anche poi ribadito paolo dopo quel ragionamento che ho fatto prima è un ragionamento forse un po troppo pignolo perché prende in considerazione il potere come un qualcosa di effettivamente concreto quanto in realtà come ci diceva paolo prima non lo è cioè in tolkien come andiamo a definire il potere cos'è il potere come lo misuriamo il potere ecco il discorso quindi ma io questo ho fatto un po la parte del nerd perché sappiamo che il nerd che cosa fa eh gandalf versus saroma cosa che faremo eh coinvolgono anche paolo fare queste cose pure riccardo le faremo queste cose chi vince le domande classiche da da nerd che tutti noi ci facciamo però alla fine effettivamente non stiamo parlando di goku versus vegeta che abbiamo i livelli di potere nulla da togliere comunque a un manga che ha fatto la storia eh però eh quello che voglio dire come diceva appunto paolo prima il potere in tolkien non è quantificabile come lo quantifichiamo io ci vedo ovviamente c'è una gerarchia la conosciamo la gerarchia qual è però per quanto riguarda il potere lì entriamo in un campo in cui è difficile poi mettere proprio a confronto eh e dire questo vincerebbe questo questo perderebbe come lo fai a dire con certezza anche perché il tutto andrebbe contestualizzato e così via proprio perché ad esempio median come appunto eh specificava prima paolo come funziona la magia di mele il potere di median solo in chiave difensiva e in chiave offensiva il suo potere è il minore quindi in chiave difensiva può battere magari qualcuno che è gerarchicamente anche superiore a lei o in cioè bastandoci su quello che dice tolkien tolkien ci dice chiunque più potente di median può attraversare la cintura però torniamo ancora una volta allo stesso discorso e come fai a valutare chi è più potente di median solo dal punto di vista gerarchico allora solo i valor non potevano passare con la cintura e quella potrebbe essere l'unica spiegazione però questo tolkien non è che ce lo specifica nel però noi se appunto si osserviamo che diceva appunto questo paradosso che melian teoricamente dovrebbe dovrebbe poter battere morgot ma in realtà vediamo la figlia di melian luthien che si confronta con morgot e vince lo addormenta è un potere diverso che vince però anche lì non è che lo batte lo addormenta lo raggira al massimo però ai fini di quello che doveva fare lo batte in quel momento quindi come lo definiamo quel potere ma io rilancio lo sconfigge con l'arte con un'arte utilizzata in maniera giusta perché a seconda della versione lo sconfigge col canto o con la danza e qui e quindi è una vittoria incredibile ottenuta perché è un'arte utilizzata per amore in quel caso altre volte invece non funziona anche lì non c'è una spiegazione scientifica a queste cose purtroppo non abbiamo il poten il potenziometro la potenza dei personaggi di 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 tolkien e tolkien spesso si è dato a a digressioni in merito a ai poteri dei propri personaggi li trovate soprattutto nelle lettere ovviamente lui spesso si mette si è messo a descrivere il potere dei vari personaggi però fare un determinato discorso chi è più potente di questo chi è più chi è più potente tra queste e quell'altro in tolkien lascia un po il tempo che trova noi ovviamente quello che possiamo fare è basarci sempre su quello che ci dice l'autore in questo caso il dubbio permane però è un dubbio giustificato come abbiamo detto un po tutti stasera dalla dalla come posso dire dalla vacuità non dalla vacuità dalla sì dalla vaghezza della definizione di potere all'interno di questo universo quindi quindi ragazzi allora faremo questi discorsi li faremo perché so che sono dei discorsi che in realtà attirano molto le persone sapere chi vince chi vince chi perde questo e quell'altro sono discorsi anche divertenti da fare perché sono delle comunque delle spopolazioni quindi eh sono pur sempre dei discorsi che ne facciamo per divertirci non perché ci vantiamo di avere la verità assoluta perché nessuno aveva la verità assoluta su chi avrebbe vinto tra un goliant e meliano perché ha vinto questo perché ha vinto quello che vincerebbe tra saruman e gandalf in un incontro nessuno ha la certezza assoluta eh quindi se ne parliamo è per per divertirci per fare quattro chiacchiere parliamo è per fare 4 chiacchiere per fare 4 chiacchiere